ma ciao a tutti ragazzi e ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video scusate per l'orario perché è mezzanotte e cinquanta sì lo so solito registro un po' prima il video classico come faccio sempre ma mi sono dimenticata ho perso un po' di tempo per quello mi sono dimenticata di registrarlo vabbè non fa niente lo stesso se è martedì questo sarebbe il video di lunedì non vi preoccupate ma il video ci sarà nel canale ok una piccola premessa che ci doveva stare quindi questo è il video recensione prima un attimo il quaderno che tengo scritto il video tra l'altro come mi dedico io a fare per fare questi video e quindi questo è il video recensione sempre make up su una delle mie matite labbra stavolta questa qui molto carina questa sarebbe di le giolie matita labbra la giolie il numero 45 questo rosa molto carino qui vedete dal tappo un rosa chiaro sarebbe molto bello posso dire che l'ho usato per un bel po' di tempo e posso dire che lo promuovo quindi veramente grande prodotto ve lo consiglio ve lo consiglio di comprare online per chi non può scegliere che sta sto virus non vedo l'ora che se ne va onestamente sperando bene giustamente non si può fare tante altre cose quindi vi consiglio di comprare questa matita che è molto molto bella io l'ho utilizzata però poco il sento poco perché l'ho utilizzato che l'ho utilizzato di più solo i luci da labbra e i rossetti per far veloce per non mettere prima la matita e poi i luci da labbra e quel che sia per questo dico l'ho utilizzato il giusto diciamo e posso dire che l'ho utilizzato perfettamente e quindi questa è la mia piccola ma buona recensione nel frattempo sto guardando pure grande fratello voi dove grande fratello fate una cosa spendete la televisione e mettetevi su youtube e guardate questo piccolo video tanto a 5 minuti vi faccio compagnia ok e quindi con questo è tutto vi mando un grande bacio e ci vediamo nei prossimi video certamente poi ovviamente passate su tutti i miei social che conoscete già tutti i nomi che stanno tutto nell'infobox se volete no se volete andate a vedere il video quello la dedicato al mio sogno mi raccomando andatela a vedere in tanti commentate attiviamo questa bellissima community di youtube ok mi raccomando passate in tanti commentate in tanti sotto al video mettete tanti mi piace e quindi che posso dire un grande bacio e ci vedete il vostro video e vi vi voglio modo di bene ok ciao a tutti